Abbiamo conosciuto il programma amministrativo del dottor Angelo Cefalo, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra nel comune di La Terza. Ora è il momento dell'appello al voto. E allora, dottor Cefalo, immagini in questo momento di avere dinanzi a sé ogni suo potenziale elettore, ogni cittadino votante laertino. Perché barrare i simboli del centrodestra? Perché barrare il nome Cefalo? Allora, Angelo Cefalo è un medico che è stato sempre disponibile con i suoi pazienti di tutti i tipi. Quindi Angelo Cefalo manterrà fede a questo tipo di comportamento nei confronti di tutti i cittadini, rispettandoli e favorendoli per quelle che saranno le esigenze di tutti. E quindi di tutti perché tutti quanti poi faremo forza, tutti quanti manterremo fede a quelle che sono le regole. Quindi Angelo Cefalo dice a tutti i cittadini di La Terza, votatelo perché non li deluderà, in quanto nella sua formazione professionale non ha mai deluso nessuno. Un po' come a dire dalla cura dei pazienti alla cura della città. Benissimo, è proprio così. Era la domanda che mi aspettavo che mi si dicesse. È proprio questo l'obiettivo di Angelo Cefalo. Quindi al comune di La Terza, il 20 e il 21, votate Angelo Cefalo, mettete la X su Angelo Cefalo, mettete la X su tutti i consiglieri candidati di Angelo Cefalo, nella coalizione di centrodestra.